Giorgia Meloni, perché ha scelto l'Abruzzo per la sua candidatura? Guardi, ho scelto l'Abruzzo per la mia candidatura perché l'Abruzzo per noi è un simbolo. È un simbolo di buon governo, perché in Abruzzo Fratelli d'Italia esprime l'esperienza di L'Aquila con Pierluigi Biondi, sicuramente uno dei migliori sindaci che abbiamo sul territorio nazionale, Marco Marsiglio, la guida della regione, che è un'altra esperienza di governo che secondo me sta dando dei risultati straordinari. E quindi intanto per dire che siamo in grado e ottimamente di governare. E in secondo luogo perché noi scegliemmo al tempo di investire su una regione come questa, che era una regione che sommava problemi di partenza, per esempio il suo ritardo infrastrutturale, nonostante la sua posizione centrale, un isolamento che era incredibile, ha anche cose che poi si sono sommate, il terremoto per esempio, e volevamo dimostrare che si poteva invertire la tendenza. Ci abbiamo lavorato, abbiamo dato le nostre risposte, abbiamo continuato con coerenza su questi temi. Cito Fratelli d'Italia è stato il partito che più di tutti nella scorsa legislatura si è occupato del tema della ricostruzione. Chiedemmo che il PNRR dedicasse a questo un capitolo e se oggi ci sono delle risorse, seppure non quelle che avremmo voluto, nel PNRR si deve a Fratelli d'Italia. E vogliamo costruire questa continuità ideale tra il tema di governare bene quando si ha l'occasione di farlo, con serietà, con saggezza, con visione e il tema che il declino alla fine è una scelta e non è un destino. Lo puoi invertire con un po' di buonsenso. Lei potrebbe essere il primo ministro di questo paese ma contemporaneamente sarebbe ancora la deputata dell'Aquila. Esattamente e per me sarebbe un onore farlo perché credo che nella città dell'Aquila ci sia tanto che vale la pena di ricordare e simboleggiare la difficoltà ma anche l'orgoglio, la tradizione ma anche la modernità, la capacità di risollevarsi. L'Italia ha disperato bisogno di quell'esempio lì, della forza, della caparbietà, dell'orgoglio, della costanza, della serietà che i cittadini abruzzesi e aquilani in particolare hanno dimostrato in questi anni. Domenica c'è stato anche il Santo Padre all'Aquila, ha parlato di una città che diventerà capitale della pace, della riconciliazione e del perdono. È un importante impegno anche per chi a livello internazionale dovrà ricordare questo messaggio celestiniano che è echeggiato nel mondo. Assolutamente sì, la giornata di domenica scorsa è stata una giornata straordinaria per la città dell'Aquila e tra l'altro spero che possa rappresentare anche un volano al di là dei grandi simboli che chiaramente l'anno che si apre per la città con l'indulgenza plenaria è un anno molto importante, può attrarre anche tanta attenzione, tanti turisti, tanti pellegrini da tutto il mondo e questo io lo considero particolarmente importante. Dopodiché ovviamente il messaggio del Santo Padre, particolarmente in un momento storico come quello nel quale ci troviamo, è un messaggio che va ascoltato. Noi rischiamo, siamo nel mezzo di un conflitto, rischiamo un conflitto che si propaga. È importante ciascuno fare, in coscienza ovviamente, per quello che ritiene essere gli strumenti migliori, quello che si può per fermare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e fermare il conflitto. Io continuo a ritenere che il tema del gas sia un tema da questo punto di vista centrale perché la cosa più efficace che si può fare al netto della guerra in sé è staccarsi dall'approvvigionamento di gas da parte della Russia e ovviamente Fratelli d'Italia lavora per ottenere questi obiettivi, ma penso che spostare la nostra dipendenza da una nazione all'altra alla fine alla lunga non risolva il problema. Serve il mix energetico, serve tornare a produrre energia il più possibile partendo dal gas che in qualche maniera in Italia c'è e su questo Fratelli d'Italia è molto determinata anche per i prossimi mesi. Noi siamo stati l'ultimo anno nei confronti di Marco Marsiglio e gli ultimi mesi nei confronti di Pierluigi Biondi a chiedere sistematicamente se si fossero candidati in Parlamento. Loro hanno sempre detto che dobbiamo completare e Biondi ne ha ancora tantissimo da fare il nostro mandato. Come giudica questo atto di generosità in qualche modo a fronte di un seggio comodo in Parlamento? Ovviamente lo giudico in modo ottimo nel senso, ma li conosco, io non ho neanche avuto bisogno di chiederlo che cosa intendessero fare, né avrei voluto che lasciassero il loro incarico ma non sono stato io ad averlo chiesto perché le persone responsabili e che si assumono una responsabilità nei confronti della loro comunità sanno portarla avanti e questa è una peculiarità di Fratelli d'Italia. Guardi, tante volte avremmo potuto nel nostro percorso prendere delle scorciatoie che ci avrebbero reso la vita più facile. Abbiamo scelto di non farlo perché sapevamo che alla lunga avrebbe pagato, perché sapevamo che alla fine la sfida più grande della politica è che la gente torni a fidarsi delle istituzioni, dello Stato, della classe politica perché qualsiasi rivoluzione vogliamo fare, in senso ovviamente di costruzione, non la si può fare da soli. Io potrei essere il migliore governatore, il miglior sindaco, il migliore presidente del Consiglio ma se poi la gente non ti risponde, se fatta la legge hai trovato l'inganno, non ce la fai comunque. Qui questa nazione deve tornare a credere in se stessa, a prendersi per mano tra brave persone per tirarla fuori dal disastro e questo si fa solo se si parte dall'esempio e le istituzioni sono le prime a dover dare l'esempio. Marco e Pierluigi qui hanno dato l'esempio, così come tanti altri esponenti di Fratelli d'Italia che normalmente portano a termine il loro mandato e vengono anche riconfermati nella quasi totalità dei casi e io sono molto fiera di questo. Qui in Abruzzo viviamo un dibattito legato alla crisi energetica perché questa regione ha detto in passato no alle trivellazioni offshore. Il nuovo governo potrebbe rivedere queste scelte? Guardi, qui si è detto in passato e ci sono stati referendum eccetera e anche le posizioni che abbiamo sostenuto noi sulle trivellazioni vicino alla costa cioè sulle trivellazioni entro i 12 chilometri dalla costa. Io credo che le due cose possano camminare insieme penso che si possa continuare e riprendere a utilizzare alcune riserve di gas che ci sono nel mare Adriatico senza deturpare il territorio come penso che si possano fare le paleoliche senza devastare il paesaggio come penso che si possano fare i pannelli fotovoltaici sui tetti senza consumare suolo cioè sono soluzioni sulle quali con un po' di buonsenso e di intelligenza non c'è bisogno di fare necessariamente una scelta o l'altra. Qui c'è un approccio spesso ideologico su materie che ideologiche non sono che non tiene conto di cose normali. Allora noi abbiamo fatto una politica in questi anni per cui eravamo convinti che dipendendo completamente dall'estero avremmo aiutato l'ambiente dopodiché segnalo che le emissioni sono globali per una ragione cioè non ti salvi se non cerchi tu di lavorare sulla tecnologia come per esempio l'Italia sta facendo secondo me molto bene per esempio con il progetto dell'ENI sulla fusione nucleare che da qui a vent'anni, trent'anni potrebbe essere la soluzione di tutti i problemi legati all'energia e all'ambiente però anche la difesa dell'ambiente non può avere un approccio così ideologico da non tener conto che l'ambiente lo deve difendere con l'uomo dentro. Si deve creare insieme sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale. Faccio un esempio, io continuo a essere molto critica sul Green Deal europeo cioè sulla transizione ecologica così come immaginata dall'Unione Europea tra l'altro impatta anche in una regione come questa perché se tu dici che vuoi diminuire le emissioni globali legandoti completamente a un elettrico che oggi è prodotto in gran parte in Cina con le centrali a carbone, chiedo scusa ed estraendo e con materiali che vengono estrati e mi dici che io per legare, per passare dalla dipendenza verso la Russia a quella cinese, oltretutto devo devastare il settore dell'automotive italiano io dico che una strategia del genere è scritta data fazzi non mi sembra una cosa intelligente si possono fare mille cose come per esempio lavorare sulla riconversione l'incentivo alla riconversione oppure se l'Europa volesse davvero fare una politica seria di difesa dell'ambiente dovrebbe mettere i tazzi di importazione per i prodotti che arrivano da nazioni che non rispettano i nostri stessi standard ambientali perché noi mettiamo la tassa sulla plastica in Europa dove i fiumi contribuiscono allo sversamento di plastica in mare per lo 0,8% e importiamo da Cina e India che da sole contribuiscono per l'80% non mi pare una strategia intelligente quindi il punto è non avere un approccio ideologico ma avere un approccio serio che possa aiutarci a difendere l'ambiente ma anche a difendere i nostri interessi nazionali Un ultimo tema che riguarda l'Abruzzo è il suo collegamento infrastrutturale con Roma in particolare le autostrade che sono tra le più care d'Italia e tra quelle che necessitano di interventi di più urgente manutenzione anche sul fronte antisismico cambiano di gestione ogni settimana alla luce dei provvedimenti di TAR e Consiglio di Stato è una questione che il nuovo Ministro delle Infrastrutture a Portapia dovrà prendere in carico e questo è un impegno che può prendere il centro-destra Guardi, questo è sicuramente un impegno che possiamo prendere la questione fin qui è stata gestita molto e non torniamo indietro perché queste questioni le conoscete meglio di me però nell'emore della soluzione definitiva noi, poiché queste cose di solito finiscono sempre per impattare sui cittadini e qui parliamo di cittadini che soprattutto per la parte diciamo dell'entroterra rischiano di essere particolarmente penalizzati in una regione sulla quale Marsilio lavora prevalentemente sul tema delle infrastrutture l'aeroporto, la ferrovia eccetera ma il tema delle autostrade oggi è ancora di rimente noi quando anche nell'ultimo decreto in cui si è discusso di queste materie avevamo presentato un ordine del giorno che è tra l'altro stato approvato ma mai realizzato per esentare i pendolari cioè le persone che si devono muovere verso Roma o per ragioni di studio o per ragioni sanitarie o per ragioni di lavoro dal pagamento dell'autostrada è stato approvato ma non è stato realizzato questo penso sia un impegno che Fratelli d'Italia e il Governo si può prendere nelle more della soluzione di una gestione che deve ovviamente garantire efficienza ed economicità come sempre accade quando hai un'infrastruttura pubblica gestita da un privato Ci lasciamo con una domanda che è relativa alla cifra del giorno più 8,4% il dato dell'inflazione aggiornato ad oggi si prevede un autunno durissimo per gli italiani per le famiglie e per le imprese quali sarebbero i primi provvedimenti da mettere in campo da parte di un Governo di centrodestra? Guardi io penso che se non si riesce a risolvere prima la prima vicenda è quella delle bollette spero che si possa risolvere prima io ho dato la mia disponibilità pur dall'opposizione e dall'attuale Governo e pur sapendo che il Parlamento è formalmente sciolto ma si può riunire ovviamente se tutti sono d'accordo per questioni di emergenza ci sono alcune piccole grandi cose che si possono fare intanto per tamponare su una materia che è molto complessa le due proposte che sta facendo Fratelli d'Italia sono primo lo Stato non deve fare extragettito sull'aumento delle bollette è ovvio che se la bolletta lo scorso anno mi costava 100 e adesso mi costa 700 lo Stato guadagna in troita molta più IVA e quell'IVA secondo me deve essere tagliata a monte quindi noi stiamo chiedendo che tutti gli oneri relativi alla parte dell'aumento vengano azzerati a CISE e IVA dopodiché una cosa che si può fare facilmente che è a costo molto basso per il Governo italiano quindi anche senza nuovo sforamento di bilancio è separare il costo dell'elettricità dal costo del gas perché noi abbiamo questa convenzione da qualche decennio per la verità per cui il costo di qualsiasi fonte di approvvigionamento energetico viene parametrato a quello del gas perché al tempo conveniva in quanto il gas costava di meno oggi non conviene più perché il gas costa molto di più ma quando a me arriva la bolletta dentro casa così lo spieghiamo facile facile magari il mio diciamo la società che mi porta l'elettricità dentro casa ha l'approvvigionamento dell'energia in parte da gas e in parte da rinnovabile ora il gas mi costa 700 ma la rinnovabile mi costa 100 e se io conto tutto a 700 è ovvio che la bolletta mi costa molto di più invece se io faccio quella media quella stessa bolletta mi costa 400 questa è una cosa che si può fare per una scelta politica che tra l'altro io so era stata già proposta al Ministro Cingolani e che io ho ribadito anche al Presidente del Consiglio al Ministro e agli altri partiti possiamo approvarlo domani questo sarebbe sicuramente un primo provvedimento poi se la questione si tampona prima in Italia c'è da fare insomma molte cose io credo che serva una strategia industriale credo che serva detassare il lavoro credo che serva incentivare chi assume credo che serva distinguere l'assistenza quindi il reddito di cittadinanza l'assistenzialismo dalle politiche per cercare lavoro lo Stato si occupa di chi non può lavorare ma deve trovare lavoro o aiutare a trovare lavoro chi può lavorare cose di buonsenso che però possono cambiare anche le sorti di questa nazione poi molto dipende dalla situazione internazionale ma poi è la crescita che risolve non è niente che riguardi l'economia si produce o si risolve per decreto la povertà non si abbatte per decreto l'occupazione non si crea per decreto e la crescita non si fa per decreto si fa quando tu liberi le energie della nazione consenti alle persone di fare e di assumere e di lavorare e di produrre non si fa